Team Building a Barcellona in italiano Il team building aziendale a Barcellona sta conoscendo una nuova maturità, è sempre stato un'occasione di aggregazione e convivialità ma sta diventando anche una vera occasione di formazione e un processo da mettere in atto nelle aziende. In un mondo in cui i cambiamenti sono veloci e di forte impatto le aziende devono essere pronte a reagire in virtù di quanto hanno di più importante, le risorse umane. I team oggi non possono più funzionare solo con una suddivisione dei compiti, sono dei veri laboratori umani in cui ciascuno deve sentirsi chiamato a dare un importante contributo, arricchendo i progetti e gli altri con la propria esperienza e con il proprio bagaglio culturale, sociale e generazionale. Il nostro approccio di Chiocciola Barcellona.teambuilding su Facebook ha l'obiettivo di mettere le persone al centro, e di tradurre le azioni proposte con il team building in emozioni che i partecipanti potranno riportare nel quotidiano. Stare bene al lavoro e con gli altri significa essere più produttivi e creativi, e stare meglio in generale. Il nostro team building intento è sempre offrire un'esperienza umana che possa ispirare i partecipanti a cercare emozioni positive, relazioni positive e apprezzare il frutto di una sana collaborazione grazie ai nostri team building eventi in italiano e inglese a Barcellona. Ci trovi in Facebook, chiocciolabarselona.teambuilding. Grazie per il tuo interesse.